campagno inviato nel kulag combatterà per tornare in azione ma vedi tu solo fucili di precisione porto una terra ce l'ho qua ce l'ho ma come qualcuno ma io ti ho sparato c'è andato la terra quello sopra sopra è a terra ma guarda quello come cazzo è sopravvissuto dove stanno dove stanno il mezzo piano dove sei tu fra sulle con le scale diciamo insieme non è da ricognizione che c'è l'area di 30 colpicio 30 colpicio e l'unico di un'altra parola tommasso favore mi puoi dire come è fatto fare quel adesso sto in modalità ninja io non la trovo quella opzione guarda che ti faccio vedere la sicura prendi prendi direi un il questo lo mi 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 Questa è Halo Guarda Fate un po' di pratica finché potete Presto ci muoveremo Ragazzi No, mo te lo faccio vedere io Qua è la modalità di ninja di Halo Questa è la modalità ninja di Halo Questa è la modalità ninja di Halo Questa è la modalità ninja di Halo Adesso combatteremo per davvero Che stupido Questa è la modalità ninja di Halo Questa è la modalità ninja di Halo Questa è la modalità ninja di Halo Procedere alla zona sicura A Pop Art Vai ai filtri Effetti Questa è la modalità ninja di Halo 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 La ricerca Questa è la modalità di Halo Questa è la modalità ninja 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 di? Oh non è Perché calore è calore Se con chi può lo calore va assè attivo Tutti perdono eh eh tutti i pederi no 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 eh 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 io non è lui è lui ma come si chiama la transenne amore la transenne come un pazzo scatenato come un pazzo scatenato avete visto quel meme di quello di quel ragazzo che muoveva la transenne si va pure lui si si tipo così mamma ma che che andiamo al negozio occhio io ci ho trovato un cardio voi non ha fatto la musica neomelodica eh tuo mio vorrei andare in palestra a fare cardio però non ho il tempo ma io mi chiedo perchè gioco ancora con John Terry ma io non devo fare tutto che gioco ho capito vai ho c'è una pesta che ve la è vero di 5 ma c'è un fattamento di arrivo potenziamento da campo disponibile allo metto questo qua stanno con le con le demolizioni su puro aspera metto c'è un fattamento ma io sto pieno ma roba, ricordo tanto l'ora sto prendendo l'ora è vero, coglione, vado ma non essere così fluido di potenza eh no perchè in particolo equipaggiato del settore per gli difficolti ho dato l'acqua avete aperto voi sentito a me se ti devo dire la verità anche qui avevo trovato una porta aperta però non era luttato per niente ma zero pro ok sto dicendo ho equipaggiato e bene l'SPR del multi giocatore però con una piccola modifica non mi sono venuto per me che resta pazzo di silenzare ragazzi io non ho preso c'è chino comunque però io mitragliezza qui lo stocco ma osservano le corazze? 2 di riservi come non detto no non la posso appendere la cassa la prendo io tanto avevo le munizioni ma le abbiamo appena prese quindi l'ho presa io la casa ottimo ottimo ragazzi andiamo verso mi muovo la salita la salata e come si diceva la crescita non è finito nessuno dai che ce l'abbiamo no che non ti ho detto di coglioni hanno rianimato più avanti hanno rianimato qua stazione di acquinta identificata sono oh che comunque ho conosciuto il bruno ma 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 nelle partite se non c'è è la che cosa che posso che ho fatto qui con la con 10 la prendo io non lo prendo io hanno chiamato l'altro mi sa dove hanno vaccato ecco ma l'anello non è stanno bombardando senti mi senti dicendo un lancio granato è ora ho arrivato lo sa è quanto cazzo te lo chiamato tra ho già panneggiato a posti e buttato eccolo si è buttato ma mi sa che adesso che l'eliminato stratosferico perché sarò qui e se non avete capito ero in fumaggio io sto pieno di soldi mannaggia non posso perdere avanti ci sono ci sono lo mando pure io non me lo può mandare avanzate avanzate voi non me lo può lanciare fatto attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo gas in movimento vada 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 salite salite no non c'era di male bravo una maschera antica non è chiamato 40 mila di 40 ragazzi sto pieno ho preso il bombardamento da te a me serve questo pieno di soldi vogliono mettere una maschera antica devo metterlo a v per il costo ne prendo due basta io c'è l'ho che faccio raga mi tengo il carro vedete che cazzo io dico che ehi dobbiamo aspettare qua poi io mi vado in silenzio un carro mac io ti considero no io ti considero potenzialmente la campagna disponibile spr mac e tu io male ma e allora me lo prendo sono automi ce l'ha ragazzi vabbi per il ghost tanto vini qua prenditi la grazie amore io c'ho la casa protezione io mi sto prendendo l'autore lascia migliori attenzione vg facciamo andiamo oh è il terzo guadino perché non l'avete perso qui serve un'azione ah ok me lo prendo ah no ragazzi io sto andando già dove è io dove andiamo a petare non ci cattoni arriviamo arriviamo uno è sembra quello che ci hanno dato uno è qua sta attenzione attenzione guabbi nemico ragazzi vediamo subito il ghost è sparito lo d'auto ragazzi mi sapeci il grau ragazzi non è sbagliato però pallet con 58 di danno a noi incominciare a fare mille e che cazzo è fatto un sparano mi sparano uno è a terra ma mi ha fatto per me dove sta dentro la casa ha rotto la corazza è uno di ma ha letto errato che ho fatto fatto come mai non è morto subito allora io ragazzi ragazzi devo aprire io devo aprire la cassa protezione vi servono a voi io ne ho trovo attenzione attraverso disponibile dove sto io arrivo a salata buono auto con il trato da voi continuamente fatti uno uno cioè no zero me l'avete finito voi poi quello me l'ha sticcata addosso che fa morice i soldi se volendo passare da un negozio non so che io mi vorrei mi puoi dare un po pallet e mi voglio andare a prendere vado da solo no no ragazzi no qualcuno però non proprio negozio ma più urla vado qui è appena tornato dal google lo vedo dove non lo vedo più se non boscato eccolo alla vicina alla porta è entrato buono ragazzi non volevo allarmarvi ma senti per sparare comunque oh qua 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 ragazzi qua qui c'è un bersaglio uno sembra l'ho colpito uno è è un cazzo non è uno non è uno da dove stava non l'ho visto non lo vedo l'altro vicino a terra da qua ma non lo vedo ok lo vedo non mi ha visto sono qua in due arriva arriva l'italiano mi stavo sparando con io gli stavo sparando d'acqua fatete mi ho danneggiato parecchio uno lo a minchia abbiamo fatti 3 io non l'ho fatto nessuno ragazzi dove abbiamo fatto prima il macello ok la setta e non mi ricordo è vero che ci sono un'altra ricognizione ecco l'eccolo eccoli ecco l'eccolo eccoli a to tre zone uno sta andando verso la lumb però ce l'ho preso con la c meno mai che te l'ho detto di metterla quella cazzo di clima di me sono tutti quella casa di lancio il grappolo aspetto veloci un è morto sono state messi allora non l'ho fatto io raga uno l'ho fatto io mi rianimate veloce ho sentito che qualcuno di 10 10 10 10 non capisco dell'avversario che c'è numeri mettiti come a noi così ci troviamo procedere rimanete la 55 se l'avete fatto c'è anche la cassa volendo minchia l'epoca infatti come un botto dai 20 secondi quando non è un po' come un occhio una parte tutto secondo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ottimo arrivo 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 le cose di un attacco di precisione tieni palletti da pure questi soldi se vuoi prendere un bombardamento io l'ho preso io c'è la cacca trappi io prendo precisione vado un attimo vado un attimo sopra raga se mi servono munizioni non penso che arrivi qualcuno da lì ok questo non c'è la mano c'è tutto al massimo ok 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 vado 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 l'area da destra comunque mi avete detto i numeri togli i numeri è proprio che se toglie i numeri sei cosa che quando mi pinghi io subito capisco se poi devo guardare sopra i numeri e la vostra volta dice ovest eh, se tu mi dicevo che è una grande fetta ovest no perchè io so che ho una grande stessa della mappa d'acqua sud e poi c'è il nord c'è ormai l'imparata memoria come la tipo l'aeroporto del nord ovest per esempio c'è un po' di da voi che si diceva quando ho fatto è una storia di unico raga io il costo non ce l'ho o avviene migliorando io il costo non ce l'ho ok ok io capisco la visione mappa iniziamo ad andare qua riposizionamento apposto però occhio che queste cose saranno pini di camperunimo eh non è tutto è assicurato ora è una città fatta minchia al centro ma dentro è vuoto che cazzo qui non vuoi un laccio di equipaggiamento non vuoi un laccio di equipaggiamento io non c'ho per me sarebbe l'idea no 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 te lo scorti lo so ma non c'è il vostro non fa né non fa niente quante partite del momento senza il corso ma le partite abbiamo vinto pure senza shock ma mi dispiace perché chi cazzo si prende la banderina questo è adesso eccolo dove stanno le cose davanti ma non viveva qualcuno che ho visto sul tetto se lì non c'è bombardamento di precisione vabbè che non scappano oppure stagli tutto l'attacco al grappolo che l'attenzione è troppo tardi troppo tale alleato hai detto mandalo magari troppo il gas definisce ma siamo la casa a fianco possiamo la casa a fianco niente proprio il contratto taglia serve contratto taglia identificata non fa niente non siamo a posto nove nemici attivi bracca lì abbiamo sai sappiamo con la squadra sta qua tanto occhio che tu sia aperto è quasi affermato veicolo perché se stanno tutti a sinistra aria animato eccolo è andato giù nella metro aria animato bastardo bersaglio in arrivo zona sicura rimanere posizione annullare il problema è che ci dovremmo muovere avete tutte le maschere qua c'è una squadra qui c'è un bersaglio ricevuto volendo io posso buttare l'attacco a grappolo possiamo un secondo per poi scendere e rimanere vedi che invece di spostarti verso sinistra alla metro sta quello che ha reanimato eh che ha perso il camion sta segnato qua giù che facciamo raga non lo so ma ci dovremmo dobbiamo scendere ci spaga a destra abbiamo un serve supporto bersagli marcati ci basta danner arrivare al muro eh eh la giù cambia posizione quello che ha reanimato qui in giù c'è qualcuno non sono giù non sono giù a terra oh oh serve cazzo ma non è finito guarda il camion guarda il camion guarda il camion mi ha finito medici aspetta guarda il camion basta attacchi dammi i soldi, dammi i soldi veloce tieni un bombardamento vero? occhio qua, qua di fronte non ho più l'autore qua qua, stanno vedendo ma va va e non lo ha più, ma dai sta vedendo eh, vabbè se avessimo avuto la nuova cristo, sali stavolta ha visto il nemico oh, Ale bravo, Ale bravo, ha un capitale è è è è è Grazie a tutti.